La gente non si lamenta del vostro prezzo perché costate qualche euro in più, si lamenta in due casi. Uno, se pensa di avere avuto una cosa inferiore a quella che si aspettava. Due, se pensa che poteva avere lo stesso servizio pagando meno altrove. Signori, piantatevela in testa perché quello che vi ho detto, se ve lo scrivete e ci ragionate, avete già vinto. La gente non si lamenta per il vostro prezzo in quanto un po' più alto di altri, si lamenta nel momento in cui pensa di aver avuto meno di quello per cui ha speso o pensa che poteva avere lo stesso spendendo meno da un'altra parte. Non lo trovate nei libri, queste qua sono robe che mi avete insegnato voi in questi 25 anni che siamo insieme. Quindi quello che dobbiamo capire è che dobbiamo smetterla di pensare al prezzo come l'unica variabile perché nella maggior parte dei casi poi dovremmo metterci qui a capire che i prezzi si possono costruire in base a tre variabili o partire dal costo, o partire dal mercato, o partire dal valore. Ed è inutile dirvi che bisogna partire dal valore. Il discorso qual è? Nella testa del cliente potenziale o acquisito tu puoi essere la scarpa di Pittarello o il sandalo di Jimmy Choo. Non conta il denaro che ha la cliente. Perché tu devi pensare che ci sono delle donne, faccio un esempio, potevo farla in maschi, delle donne che non vanno dal parrucchiere per andare in vacanza e delle donne che non vanno in vacanza per andare dal parrucchiere. Ci sono delle donne che hanno la borsa di Michael Corso o di Gucci e non vanno dal parrucchiere per averla. Ci sono delle donne che non comprano la borsa di Gucci per andare dal parrucchiere. Poi ovviamente ci sono le migliori che sono quelle che hanno la borsa di Gucci, che vanno dal parrucchiere e vanno in vacanza. Quindi noi dobbiamo renderci conto che c'è della gente che ci deve scegliere e ci sceglie in base a un perché. Se il nostro perché è debole, quella gente lì non ci sceglierà mai. Fine del film. Possiamo andare a un anno a tutti quanti. Perché se capisci questo, hai vinto. Invece cosa facciamo? Noi pensiamo che il problema sia il prezzo, lo abbassiamo o non lo alziamo. Perché c'è gente che sono 3, 4, 5 anni che non alza i prezzi. Voi non state bene di testa. Secondo me ogni 15-24 mesi dovete mettere mano al listino. Non completo, ma per menù o per voci. Io insegno a farlo in modo molto proporzionato ai miei clienti. E voi avete fatto quello che serve per dare seguito. Perché se non avete un tot da investire sul vostro salone, presto o tardi, ricordate il gatto che si morde la coda, non avrete più denaro da investire nel salone. Il salone diventerà faticente e i clienti che vogliono, che vi vedevano prima come la Gucci, adesso vi vedono come la Carpisa. E voi siete fottuti. Ma sai che Lele ci sono degli studi che, proprio dimostrati, che dicono che se tu hai lo stesso listino, gli stessi prezzi fermi da 4 anni, la percezione di qualità cala. Perché i clienti si aspettano che tu aumenti.